Buon pomeriggio e benvenuti dal telegiornale dell'Abruzzo. Controlli capillari quindi sul territorio per consentire a tutti di vivere serenamente il prossimo capodanno. A Chieti si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Sentiamo Alfredo Primante. Rendi contare l'attività svolta nel periodo delle festività natalizie ma soprattutto programmare una notte di San Silvestro in sicurezza. Questo l'obiettivo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Chieti, preseduto questa mattina dal prefetto Mario della Cioppa. Abbiamo deciso di portare sul territorio un rafforzamento significativo da parte delle forze di polizia ma anche con il contributo delle polizie locali e abbiamo individuato quelle che erano le esigenze maggiori. In questa prima parte d'inverno complice il meteo quasi primaverile in provincia di Chieti, la più vasta d'Abruzzo e in larga parte composta da territori d'Altacollina e montagna non ci sono state emergenze e calamità naturali. Per il nuovo anno però il prefetto punta tra le altre cose a potenziare la rete di protezione civile. La realizzazione di una task force sulla protezione civile per gestire meglio le problematiche emergenziali di eventi calamitosi che si dovessero verificare e avere la possibilità di ridurre al massimo i tempi di reattività verso queste emergenze.